Questo programma è offerto da Tecnocampus Martedì 11 giugno, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana Rassegna Stampa come ogni mattina offerta da Tecnocampus Anche oggi tanti fatti in primo piano vediamo subito che ci sono delle alleanze i patti sono stati fatti e sembra che si sia ritornati in accordo per quanto riguarda il nostro governo ma a conti fatti la resa di conti si vedrà oggi in Consiglio dei Ministri ma ancora tante le notizie che in questa mattina da un lato sconvolgono le nostre intenzioni dall'altro lato invece ci informano su quello che sta accadendo ma cominciamo subito a vedere i fatti e questa mattina sfogliamo come primo quotidiano il fatto e infatti lui l'ha accusato a ogni costo prove ce n'erano ma ora The Intercept pubblica le chat tra magistrati per incastrare e condannare l'ex presidente brasiliano e infatti partiamo subito dall'estero ma continuiamo subito a vedere che cosa accade in prima pagina in apertura ancora il riscontro dopo i ballottaggi della scorsa domenica e infatti l'effetto Campobasso vediamo che cosa porta lezioni dai ballottaggi Movimento 5 Stelle prende solamente il comune appunto di Campobasso e per il resto nulla i DEM votano Movimento 5 Stelle ma non è reciproco contro la Lega il PD studia d'esistenza i ballottaggi premiano il centrodestra e pelanizzano ancora il centrosinistra dai flussi elettorali emerge la stensione i 5 Stelle che però ottiene l'appoggio dei democratici in casa di Zingaretti si pensa a comunire i voti e battere in questo modo la destra insomma siamo già pronti con nuove alleanze proprio in vista di un'eventuale nuova elezione che comunque vedrà probabilmente secondo quanto sono i primi rumors che in questo momento ci appaiono quasi concreti e probabilmente questi porteranno a quei nuovi giochi di potere che andranno a delineare nuovi scenari ma ovviamente è tutto ancora in divenire intanto vediamo quali sono gli altri fatti Movimento 5 Stelle e sinistra e se vogliono incontrarsi si rinnovino caro Di Maio per rialzarti ora devi pedalare e intanto vediamo nella parte centrale della pagina una mega truffa all'Europa i fondi all'agricoltura pagati per l'ILVA la procura di Enna scopre raggiri alle norme per oltre 80 milioni c'è chi ha indicato l'aeroporto di Catania chi stadi di calcio, chi autostrade per accedere ai contributi della PAC invece bastava una dichiarazione fino a che sul terreno sono arrivate due richieste e quelle sono riuscite ad ottenere ancora caso Rubiter Polanco, lettera alla Bocassini vorrei parlarle da Mosca invece il caso Golunov siamo tutti Ivan, la stampa unita dal nemico di Putin e ancora si parla del caso CSM grasso lascio mie se l'ANM mi vuole fuori mi voti contro e ancora nella parte bassa della pagina il ritratto Barbara Bonansea dalla Juve alla nazionale goleador azzurra e casinista insomma per quanto riguarda lo sport ha lasciato il segno questa prima vittoria dell'Italia dell'Italia in rosa che ha segnato proprio un cambiamento di passo e di rotta in quello che è lo sport italiano il calcio troppo spesso predominio degli uomini troppo spesso le donne soprattutto in quest'anno disprezzate perché secondo molti non capiscono nulla di calcio a quanto pare hanno dimostrato l'esatto opposto ancora vediamo le altre prime pagine dei quotidiani nazionali passiamo ora al Corriere della Sera asse tra Salvini e Di Maio il leader della Rega non mi interessa un governo di Conte Terria e Moavero i vice d'accordo su decreto sicurezza e taglio delle tasse il premier tengo per me la delega l'Unione Europea e intanto per le culture politiche così il PD è rimasto solo e intanto nella parte centrale nell'Italia dei sindaci ora domina il centro-destra e vediamo infatti uno schema in cui si rappresenta proprio la realtà dei nostri comuni e intanto nella parte centrale della pagina ancora una volta dobbiamo parlare di una vicenda che ormai troppo spesso si ripete un femminicidio è stata la piccola a dare l'allarme mamma sta male Lisa uccisa perché voleva tenere la figlia con sé ancora una volta un uomo che uccide sua moglie e ancora insulti a Falcone e Borsellino in tv la RAI adesso sotto accusa ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali andiamo ad esaminare la prima pagina della verità e vediamo quali sono i fatti che vengono raccontati vediamo subito i conti sul voto nell'editoriale di Belpietro tutti dicono di aver vinto ma il PD esce a pezzi insomma come ogni elezione in quest'ultimo periodo non c'è nessuno che sembra aver perso sembra che tutti abbiano avuto la loro piccola soddisfazione e di questa se ne gratificano e se ne beano quasi come se fosse un punto a loro favore ma molto spesso la realtà è tutt'altra e ancora vediamo nella parte centrale della pagina nuova giustizia e giù le tasse o è meglio farla finita parla Salvini non vivacchio dopo l'immigrazione tocca all'economia i miei riferimenti Maggiolini e Miglio e ancora la caccia aiuteris si sposta in Africa India e Thailandia complicano la surrogata che nei altri paesi poveri presi d'assalto pensate un po' per i prezzi bassi ovviamente non stiamo parlando del mercato in cui si acquista la frutta e ancora vediamo le toghe nel caos i dieci piccoli giudici da cui è nato il pastrocchio del CSM ed ancora un documento la chiesa sedesta ecco le regole per sfidare il gender e insomma adesso ancora una volta sembra che qualcuno stia giocando la carta del rimpiatino e sembra ancora che una volta si stia pensando di fare ciò che in realtà non sarebbe necessario ancora vediamo Libero Salvini minaccia Conte e Grellini basta con i no o mollo tutto intervista al ministro dell'interno il resto al governo a perdere tempo i colleghi di Movimento 5 Stelle si sveglino certi magistrati peggio dei politici riformiamo davvero la giustizia ed ancora gli antichi vizi italiani studino la storia dei saputelli dell'esecutivo raccontato appunto in questo editoriale di Vittorio Feltri intanto nella parte centrale della pagina il trionfo delle azzurre guidate dalla Bonansea e viva le donne con la palla al piede e un astro che fa brillare il calcio femminile e ritorniamo sulla politica la Lega si prende 40 città e pensa in grande mentre PD e 5 Stelle esultano per la sconfitta e nella parte più bassa la camera sotto l'egidia dell'ONU un fico secco per presidente ancora vediamo nella parte bassa della pagina a origine organica e non psicologica stiamo parlando di una malattia mentale l'isteria che è una malattia e colpisce anche l'uomo finora non era stata vista almeno dalla maggior parte delle persone in questi termini l'isteria tanto raccontata da Freud e adesso invece viene dichiarata proprio così e soprattutto è riferita non solo alle donne ma anche al sesso maschile ancora mancavano le cimici a rovinarci pure l'estate perché in tanti non tollerano gli insetti ma in questo anno sembra proprio che gli insetti stiano diventando i padroni del nostro cammino perdonatemi ma ovviamente ancora non siamo in estate siamo ancora in quella zona di passaggio che sarebbe dovuta essere la primavera ma in realtà si sta già mostrando e ci sta aggredendo proprio come l'estate ancora il giornale Conte Salvini duello finale vertice infocato il presidente del consiglio minaccia i suoi vice è pronto a mollare cala la produzione industriale crollano le auto meno 17% e ancora il premier isolato adesso si traveste da tecnico mentre la sindrome e le pen per il destra-destra in Lombardia è la lezione che viene rinanciata a Matteo e le analisi idee agli antipodi su tasse e salario questo è quello che viene definito in questa prima pagina il governo dei paradossi e ancora si parla degli sbarchi senza controllo il capitano vittima del generale estate e nella parte più bassa della pagina ballottaggi sorpasso del centro-destra più comuni della sinistra e vediamo ancora l'intervista sgarbi così abbiamo liberato Ferrara dal regime rosso ancora un brutto incidente nella giornata di ieri questa volta New York si temeva per un possibile attentato per un elicottero che è andato a sbattere su un palazzo ma la realtà sembra essere ben diversa ossia un incidente che ha coinvolto questo elicottero e ancora vediamo nella parte bassa della pagina il femminismo 2.0 sembra adesso assurgere un'altra funzione e soprattutto passare per un altro campo di gioco care donne meglio il calcio della Argento insomma tante polemiche sono state fatte per le vicende che in questi ultimi mesi hanno coinvolto Asia Argento le denunce e qualsiasi altra discussione in proposito ma adesso le donne sembrano ribaltare ancora una volta la situazione e lo fanno però in maniera molto più leggera attraverso un pallone ovviamente sembra strano a dirsi ma la realtà è proprio questo e ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani ci spostiamo adesso su il tempo Rocca di Papa un brutto incidente fuga di gas che provoca l'esplosione in centro gravissimi il sindaco e tre bambini stagata chi viaggia in A24 e A25 a luglio se Toninelli non interviene scatta in automatico un aumento del 19% del biglietto e intanto Capone il suo Lazio l'effetto Zingaretti a quanto pare è già bello che è finito ancora una tragedia cisterna di Latina la moglie vuole lasciarlo lui la uccide a martellate pensate un po' sotto gli occhi della figlia e nella parte bassa della pagina dopo 29 anni di nuovo sul palco dove incantò con Carrera Seppavrotti stiamo parlando del ritorno di domingo a Caracalla ancora ci spostiamo su un'altra pagina di un quotidiano nazionale questa volta andiamo a esaminare la Repubblica due contro uno Di Maio si butta a destra e rafforza l'asse con Salvini apertura sulla TAV via libera appunto al Ministro tensione con il Premier nel vertice notturno andiamo avanti la priorità ora a quanto pare è abbassare le tasse le condizioni a conto evitare la sanzione dell'Unione Europea ma niente manovra bis e ancora vediamo nella parte centrale della pagina il punto che viene fatto da Stefano Folli il governo che naviga a vista intanto nella parte centrale della pagina una ricorrenza che racconta un fatto gravissimo Cernobil resta una lezione il progresso uccide la natura troppo spesso però di queste lezioni che ci vengono date nel quotidiano sembra che non ne teniamo assolutamente conto anzi cerchiamo sempre più di danneggiare non solo la natura ma soprattutto noi stessi che di questa natura facciamo in realtà parte e ancora vediamo i ballottaggi che fotografano in realtà un paese instabile ancora quel centimetro di libertà perso ogni giorno viene raccontato in questo articolo di Manioni che rappresenta appunto quella che è la novità del giorno ancora vediamo gli altri fatti in primo piano oggi col mattino il caso reality offese in diretta a Falcone e Borsellino una vera e propria bufera sulla RAI intanto il film verità giussumina verde storia di Camorra e i troppi tradimenti ancora un fenomeno perché l'invasione delle cavallette non è più una piaga biblica e intanto nella parte centrale della pagina in apertura l'asse tra Salvini e Di Maio avanti ma senza Dictat Unione Europea a vertice con Conte il leader leghista evitare l'infrazione no alla manovra bis il capo di 5 stelle l'obiettivo comune ora è l'abbassamento delle tasse e noi questo ce lo auguriamo sicuramente di gran lunga ancora il Parlamento bloccato e il decreto salva donne impantanato al Senato infatti la legge è ferma al palo è dall'inizio di aprile che si attende l'approvazione definitiva da quando alla Camera fu approvato un pacchetto di leggi contro la violenza sulle donne ma quel testo giace ancora in Senato insomma man mano che si va avanti diventano importanti sempre più determinati passaggi nella legge soprattutto nelle discussioni e tanti elementi importanti vengono retrocessi e comunque rimangono in secondo piano ancora il reportage e il porta a porta di potenza così la Lega ha preso il primo capoluogo del Sud e ancora l'idea è la strada in salita dell'energia pulita l'accordo sul controllo del riscaldamento globale del 2015 è stato giustamente accompagnato da un'esultanza generale intanto nell'editoriale di Zanatta Democrazia Web la politica social e quella che è la deriva religiosa raccontata nella maniera più sintetica possibile intanto nella parte centrale della pagina luci pop star campioni e tanta storia ecco il grande show dell'università dell'evento presentata infatti a Milano la cerimonia di inaugurazione e si va a grandi falcate proprio verso questa data che è il 3 luglio che segnerà l'apertura ufficiale e quella rappresentativa delle universiadi in Campania ancora circunfeso viane a treni rotti e dipendenti in ferie pendolari a piedi ma proprio questa notizia la andremo a esaminare dopo domani il vertice Whirlpool insiste noi via da Napoli ma in 10 già pronti nella vertenza Whirlpool l'azienda conferma la decisione di andare via da Napoli ma sono già pronte 10 aziende e ancora nella parte bassa della pagina le inchieste del mattino schiavi dello smartphone la malattia che nessuno cura forse perché ancora nessuno la reputa una malattia eppure non riusciamo a vivere senza il nostro cellulare attaccato al prolungamento del nostro braccio quindi senza tenerlo nella nostra mano sembra strano ma è una realtà indiscussa eppure non sembra essere una malattia almeno non all'occhio di più e intanto vediamo il manifesto Regione Rotta eccoci qua dopo 74 anni di governo della sinistra la Lega conquista Ferrara con Alan Fabri il PD più per sua responsabilità che per merito altrui perde anche Forlì e si consola con Reggio Emilia Cesena e Modena ma la storica sconfitta è un pessimo segnale in vista di quelle che sono le regionali perché ovviamente è così dai comuni si passa adesso all'obiettivo regioni e ancora vediamo il giardino dei Fizi Salvini dei Fizi Salvini che viene raccontato appunto in questo editoriale intanto sotto botta Italia e Unione Europea Conte sfida i suoi vice e la sinistra è fuori di sé tra la gente è nella parte bassa della pagina eccoci qua dal Brasile le manovre di Moro per far fuori Lula e Papa Francesco predica pace e vende armi Europa ipocrita questa è la dura presa di posizione di Papa Francesco sull'Europa e la politica adottata nei confronti dei migranti rispetto a quella sulle armi l'ira di Dio si scatenerà contro i responsabili dei paesi che parlano di pace vendono le armi per fare queste guerre insomma un binomio incredibile si parla di ciò che si vorrebbe ma in realtà si fa l'opposto quasi come se fossimo veramente tutti esseri umani e ancora la stampa Europa Conte vuole carta bianca il premier chiede di archiviare l'idea di mini bot Salvini non tiro in lungo per un zero virgola il giorno dopo i ballottaggi la Lega esulta sindaci raddoppiati ma il PD resiste anche in Veneto e Zingaretti il difficile dice comincia ora nella parte centrale della pagina Brooklyn una mostra per celebrare gli eroi di quartiere ancora vediamo gli altri titoli nelle prime pagine dei quotidiani dal dubbio violante no a concezioni proprietarie della giustizia l'intervista all'ex presidente della camera spartizioni molto ma molto peggio e intanto vediamo nella parte alta della pagina il Papa accusa l'Unione Europea porti chiusi ai migranti ma aperti alle armi Salvini replica con noi meno morti e intanto vediamo le sostituzioni etriche e distopie antisemite così la fantascienza diventa la voce di quello che è il nuovo razzismo e infatti sembra proprio che il razzismo nel 2019 non sia debellato anzi è proprio in primo piano un caso è proprio la partita giocata dalle ragazze italiane durante la giornata di domenica che ha visto protagonista di atti di razzismo una delle giocatrici italiane ancora vediamo nella parte centrale della pagina ora un'alleanza tra avvocati e magistrati per evitare ingerenze a dire Andrea Mascherin e ancora la causa dello scoppio una fuga di gas esplosione a Rocca di Papa crolla un'ara del comune grave il sindaco feriti tre bambini e infine nella parte bassa della pagina la partita con Bruxelles l'asse Conte Tria tratta con Unione Europea e il collo intanto fa scudo ma ci spostiamo subito sulla parte sportiva e vediamo che con il corriere dello sport ho scoperto l'Italia europei contro la Bosnia Mancini cerca la quarta vittoria di fila i giocatori buoni ci sono bastava cercarli e intanto i ragazzini si giocano la finale mondiale under 20 gli azzurri di Nicolato all'assalto dell'Ucraina il futuro del calcio la Lega di A ha bocciato la Super Champions tutti contrari alla proposta di Agnelli le top Milan Inter Roma e Fiorentina hanno deciso però di astenersi e nella parte centrale della pagina Milan Subarella clamoroso Maldini ci prova e scoppia il derby mercato e ancora improvviso a fondo sul centrocampista del Cagliari che sembrava già dell'Inter per convincere Giulini il club rosso-nero è pronto a calare la carta cutrone e ancora nella parte bassa della pagina lascia Parker una leggenda stiamo parlando del basket dove si ritira l'asso francese dell'NBA ora voglio uno slam Fognini numero 10 lancia un'altra sfida non mi fermo qui e ancora per lo sport Sarri te li porto io è così che annuncia tutto sport in attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico tengono banco le mosse di CR7 dopo il trionfo in National League a fine partita ha chiesto a The League di raggiungerlo alla Juve e ora è pronto a rinnovare lo stesso invito all'amico Marcello ancora vediamo nella parte bassa della pagina l'Italia del boom continuano le grandi giornate azzurre dopo la strepitosa vittoria delle ragazze sull'Australia oggettifiamo per i ragazzi dell'Under 20 nella semifinale mondiale con l'Ucraina e per gli uomini di Mancini impegnati allo stadium di Torino contro la Bosnia e con questa notizia questa prima parte della rassegna stampa vi lascio a qualche attimo di pubblicità ma mi raccomando non andate via torniamo subito dopo e con questa notizia All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta-Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, vi ricordo sempre che oggi è martedì 11 giugno, siamo sempre qui in diretta con la rassegna stampa, adesso però ci affiniamo a quelli che sono i quotidiani online per andare ad esaminare i fatti che riguardano la regione Campania. Partiamo proprio da Napoli, il movimento DEMA si spacca sui parcheggi nel rione Sanità. L'amministrazione comunale non fa in tempo a incassare soddisfazione il roadmap per i finanziamenti del contratto di sviluppo che esplode la nuova battaglia. La replica di Poggiani basta l'idea per far inarcare qualche sopracciglio. Infatti no ai parcheggi nelle cave dismesse di rione Sanità. L'amministrazione comunale non fa in tempo a incassare soddisfazione ma arriva subito la nuova battaglia. Tutta dentro casa, una diatriba aperta frontalmente qualche giorno fa da Laura Bismuto, consigliera comunale di DEMA, proprio contro un compagno, Ivo Poggiani, presidente della terza municipalità targata sempre DEMA. Nasce così una petizione che vede in prima fila alcuni intellettuali ma che scaturisce dall'area dei centri sociali del movimento cresciuto intorno al sindaco De Magistris. Oltre alle legittime richieste di fare chiarezze lanciate da urbanisti del calibro di Vezio e De Lucia, infatti non è escluso che si prepari un assaggio di ostilità, non casualmente alla vigilia delle designazioni per il toto sindaco, visto che il primo cittadino dovrà necessariamente puntare su alcuni nomi quest'estate e il profilo di Poggiani sembrerebbe uno di quelli presi in considerazione. Insomma, una vera e propria lotta interna che rappresenta qualcosa di inaspettato o forse di atteso, chissà. Ancora commerciante ucciso da un pezzo di cornicione a Napoli, il Comune dice nessuna responsabilità, questo nella nota dell'assessore Ciro Borriello e vediamo infatti che il Comune di Napoli non ha alcuna responsabilità in merito al tragico evento. A dichiararlo è proprio l'assessore Borriello e in merito alla morte di Rosario Padolino, commerciante morto dopo essere stato colpito da pezzi del cornicione caduto dal balcone al quinto piano di un palazzo in via Duomo. L'amministrazione esprime la propria vicinanza alla famiglia Padolino e sostiene temporaneamente i lavori previsti nella zona nel programma Centro Storico Unesco. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano Camorra, omicidio Ciro Colonna Ponticelli, confessa la figlia del boss. La donna legge una lettera, chiedo perdono alla famiglia, lui non doveva morire. Sono state le dichiarazioni spontanee tra le donne di Camorra, in particolare della pazzignana Luisa De Stefano, a tenere banco nell'udienza del processo per l'omicidio del rione Sanità Raffaele Ceparulo, ma soprattutto dell'innocente Ciro Colonna, entrambi assassinati a Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli. Il 7 giugno 2016, a rilasciare dichiarazioni spontanee, sono state anche altre due imputate, coinvolte nel duplice assassino, e cioè Anna De Luca Bossa e Vincenza Maione. Le tre donne hanno tutte confermato che il rassa della sanità Ceparulo doveva morire, in quanto da tempo ordinava attentati ai loro danni. E ancora vediamo le notizie in primo piano. Si parla ancora una volta di Universiade, in apertura Malika Iann e Bebevio, e i De Giacal condurranno invece la cerimonia conclusiva. L'annuncio arriva da Milano e il governatore De Luca dice sarà il nostro expo. I De Giacal condurranno infatti la cerimonia di chiusura dell'Universiade, dell'annuncio arriva da Milano nello spazio Campania di Piazza Fontana I, in occasione della presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura dell'evento, in occasione della tappa milanese del viaggio della torcia olimpica della Summer Universiade. Presenti Lorenzo Lentini, presidente Cusi, Gianluca Basile, commissario straordinario dell'Universiade, Roberta Guainieris, assessore regionale al turismo, sport e qualità della vita del Comune di Milano, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Alessandra Calmente, assessore comunale dei Napoli Giovani. All'Universiade 2019 prenderà parte anche il presidente della Repubblica, Mattarella, e renderà questo tutto ancora più prezioso. E da volla intanto vediamo una notizia di cronaca, lasciano scooter acceso mentre rapinano il supermarket. Un passante porta via le chiavi. I due erano armati, avevano preso 800 euro, ma all'uscita si sono ritrovati a piedi. E infatti i due sono arrivati in scooter davanti a un supermercato, travisati da caschi. Gli armati sono entrati e hanno minacciato la cassiera, riuscendo a portare via 800 euro. I due avevano lasciato all'esterno nel punto vendita allo scooter acceso, quindi un coraggioso passante ha estratto le chiavi del quadro del mezzo, lasciandoli così a piedi. All'uscita i due rapinatori si sono trovati, perciò a piedi, e hanno deciso di rapinare un'automobilista di passaggio per poi fuggire con la sua auto. I malventi sono stati identificati dai carabinieri, si tratta di una 27enne e di una 42enne di Ponticelli. La prima è stata sottoposta a fermo per il reato di rapina, il secondo denunciato dopo essere stato inchiodato dalle impronte lasciate sul veicolo. Denunciata anche la compagna della 27enne, che è la proprietaria dello scooter utilizzato per commettere il reato, la rapinatrice ora nel carcere femminile di Pozzuoli. E ancora vediamo le altre notizie. In primo piano, Bagnoli, l'annuncio del ministro Lezzi. Bonifica conclusa entro il 2024, all'incontro con i comitati, il commissario Floro Flores, il sottosegretario Micillo e il presidente Civitillo. E proprio durante questo incontro ha dato un termine perentorio. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Ancora una volta, abbiamo parlato prima del crollo in via Duomo, adesso lasciamo la parola alla figlia del commerciante morto che dice rispettate il nostro dolore. Rossella Padolino figlia del 66enne Rosario è morto dopo il crollo di un cornicione in via Duomo e i funerali non prima del fine settimana. Ora rispettateci però in silenzio. E infatti è stato comunicato per vie mediatiche che domani, ossia nella giornata di oggi, si sarebbero tenute le esecue di mio padre. Non è vero. A scriverlo su Facebook è Rossella Padolino, figlia di Rosario Padolino. Il commerciante è morto sabato scorso in via Duomo e colpito da un pezzo di cornicione e crollato da un palazzo. A causa della caduta di pezzi di cornicione, i funerali non avverranno però prima del fine settimana. Le notizie che erano circolate in relazione appunto alla celebrazione di questo funerale nella giornata di oggi vengono messe a tacere. Soprattutto la preghiera, la richiesta di questa donna che adesso vuole solamente silenzio per una vicenda tragica che ha coinvolto la sua famiglia. Ancora vediamo la cronaca, la tecnica della foto per rubare smartphone ai turisti. Scippo sventato in galleria. Umberto è stato il dipendente di un bar a bloccare le due donne Roma che si erano impossessate del cellulare della vittima. Infatti l'episodio è avvenuto nella mattinata all'interno di una galleria Umberto. Come sempre affollate ai turisti, uno scippo in piena regola, una fortunatamente abilmente sventata. Una donna era seduta all'esterno di uno dei bar del posto quando le si sono avvicinate due ragazze Roma. Le hanno messo una foto sul tavolo appoggiandola sul suo smartphone perché lei facesse loro la carità. La vittima allora ha preso i portafogli e consegnato qualche moneta, quindi ha ripreso a bere il suo caffè, ignara del fatto però che nello sfilare la foto le due donne le avevano portato via anche lo smartphone che c'era al di sotto. Fortunatamente per la vittima una delle dipendenti del bar sapeva di questa tecnica, che aveva assistito alla scena e ha avvertito un suo collega. Ragazzo è intervenuto firmando le due ladre, ha raccolto anche uno sputo e recuperando però il cellulare rubato. Insomma, attenzione soprattutto a queste nuove tecniche e soprattutto occhio al cellulare che appoggiate sul vostro tavolino. Ci sono mille modi per lasciarvi senza, state attenti. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Circonvesuviana, le ferie fermano i treni, corse annullate senza preavviso. E infatti mentre all'officina di Ponticelli un treno appena restaurato, revampizzato e il termine tecnico, supera uno degli ultimi test e si appresta ad andare sui binari in tutte le linee circunvesuviane e i guasti e la carenza di personale fanno piombare i viaggiatori nell'inferno. Un vero e proprio inferno è stata una giornata di forti disagi, quella di ieri con il culmine della tensione che si era giunto nel primo pomeriggio quando al terminal di Porta Nolana non c'erano treni disponibili a riportare i pendolari a casa. Ci sono state proteste vibranti e è dovuto intervenire l'esercito a calmare tutti, ma anche oggi i problemi potrebbero ripetersi ben lontani dall'essere risolti. A determinare l'ennesimo stato di caos nella ferrovia controllata da Eav sono due fattori per certi versi atavici, la difficoltà a coprire i turni e l'assenza di materiale rotabile che costringe ad usare sempre gli stessi vecchi e fatiscenti treni. Insomma anche in questo momento la situazione si presenta complicata anche per i trasporti, attenzione. Festa con le ambulanze a Pestum all'ira del ministro Grillo contro Alfieri. E infatti il re delle fritture ora è diventato l'eroe dei tre mondi perché Franco Alfieri, rasse dell'Uchiano del Centro con la vittoria a Pestum ha il singolare primato di aver amministrato tre comuni. E insomma l'altra vicenda che lo coinvolge per festeggiare la sua vittoria sette ambulanze solcano le strade di Capaccio, Pestum ha sirene spiegate. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Ci spostiamo su Caserta News, corruzione chiesta alla condanna per l'ex ministro. Il PM ha invocato tre anni e sei mesi per l'Andolfi, interessi comuni tra camorra e politica locale. A Mondragone infatti c'era comunanza di interessi tra imprenditori, politica locale e criminalità organizzata. E' forse questo uno dei passaggi più interessanti da parte del pubblico ministero della DDA, Simona Belluccio, che ha chiesto tre anni e sei mesi per l'ex ministro delle comunicazioni Mario Landolfi, il PM nel corso della sua requisitoria, pronunciata dinanzi al collegio presieduto dal giudice Loredana Di Girolamo del Tribunale Santa Maria a Capovete e ha ripercorso un'intera vicenda per la quale Landolfi è finito sotto processo, soffermandosi a lungo sulla figura dell'ex sindaco mondragonese, Ugo Alfredo Conte, e sui suoi rapporti proprio con l'ex ministro. Ma ancora vediamo la prima pagina di Caserta News, vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano. Da Caserta la Corte dei Conti indaga per danno era reale al Consorzio Idico a due anni dal primo processo, accesso a della Guardia di Finanza. avvengono contestate le indennità al Consiglio di Amministrazione negli ultimi cinque anni, esclusi sono tre attuali ed ex amministratori, scontro di diritto sull'applicabilità del decreto. Ed ancora per il dissesto bis a Caserta e stanze per oltre 152 milioni, ma i commissari non hanno gli atti ed i fondi. Ancora vediamo proprio le notizie in primo piano, Santulli per la politica, Presidente, ed una giunta competente, il neosindaco adesso guarda gli esterni. Ancora il processo, sesso e appalti, Grillo si rifiuta di rispondere al PM, l'imprenditore del Belfiort in videocollegamento fa saltare la sua testimonianza abissa al processo. E ancora una vicenda di cui abbiamo parlato anche ieri, Castelvolturno a mare sporco, il sindaco vuole andare in procura. Blitz di Petrella e Spiaggia dopo le polemiche del primo weekend di vera estate. Ed infine una sentenza, parcheggio all'ospedale mazzata sul comune dopo la chiusura, il sindaco aveva chiuso l'aria provocando fortissime polemiche. Ora il Tarra sentenzia che il provvedimento era sbagliato. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo adesso su un altro quotidiano che è Caserta Focus, vediamo una notizia di cronaca che ha già allarmato in tanti, beve un sorso d'acqua da una bottiglietta acquistata al bar e comincia a vomitare sangue, paura per una bimba di tre anni. Infatti la vicenda è accaduta a Forignano per una bimba di tre anni e per sua zia. Nella mattilata di ieri le due sono uscite per una passeggiata a causa della calura hanno deciso di acquistare una bottiglietta d'acqua in un bar per refrigerarsi. Un gesto naturale quasi scontato ma di lì a poco. L'impoderabile piccolina ha cominciato a vomitare sangue mentre la zia ha avvertito bruciori all'addome e a linguine portati immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Moscati. La bimba è stata trasferita al Santo Buono mentre i carabinieri di Aversa hanno sequestrato la bottiglietta e hanno avviato le indagini del caso. Saremo attenti anche su questa vicenda. E ancora vediamo sempre da Caserta Focus gli altri fatti in primo piano. Cambio alla guida della scuola allievi agenti di Caserta. Vediamo infatti chi è adesso a svolgere questo ruolo. Il primo dirigente della Polizia di Stato Alessandra Calvino che vediamo nella foto è il nuovo direttore della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Caserta. Auguri ad Alessandra Calvino che possa guidare anche in questo modo bene i giovani che si presentano a diventare allievi. E anche per questa mattina termina qui la rassegna stampa. Vi ringrazio per essere stati con noi, per aver scelto Teleprima. Ringrazio come ogni mattina Tecro Campus che ci offre la possibilità di fare informazione, farla in diretta e soprattutto commentata. A voi tutti un grazie speciale e soprattutto l'augurio di una splendida giornata e ci vediamo come sempre domani. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.